No, ho visto le stesse cose, ho visto rafforzare le stesse cose da quelli che sono tornati, perché poi molti c'erano anche nelle passate partite. Questo gruppo qui è un gruppo che lascia a me sperare su quello che sarà il nostro futuro, soprattutto come modo di stare insieme, come modo di essere amici, volersi aiutare a fare le cose, e questo si vede anche nella vita normale. In questo caso qui io sono fiducioso di quello che possono fare questi ragazzi, e li ho trovati carichi di energia e carichi di voglia allo stesso modo della convocazione precedente, che è quella delle due partite. Poi ho avuto un po' di tempo per pensare, perché ci sono settimane che passano in un attimo e ore che non passano mai nel calcio, però ora ho la sensazione di avere a che fare veramente con dei ragazzi che vogliono far conoscere di che pasta sono fatti. Io come obbligo assoluto morale ho quello di fare benissimo, ogni qualvolta arrivo a Coverciano e anche quando sono a casa, di pensare cose che possano poi dare seguito a quello che stiamo vedendo adesso. Sì, lo sentiamo anche come obbligo, certamente, perché poi il Mondiale è quello che ha determinato la nostra storia, quello che ha fatto felice moltissime persone, per cui partecipare a quella competizione lì per noi è un qualcosa di veramente importante, non deve diventare un'ossessione, una pressione, perché poi con questo gruppo qui abbiamo da farci delle esperienze, però siamo sulla strada buona. Noi lì abbiamo calciatori che sanno relazionarsi con la squadra, nel senso che vogliamo quella zona di campo affollata e avere qualità in quella zona di campo, saper fare un po' molte cose in quella zona di campo. Probabilmente, in questo caso, Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare poi quella superiorità che ci permetterà di gestire un po' di partita, o perlomeno nelle intenzioni c'è questo, però è abbastanza facile se si voleva riferire a chi gioca dei due, era quello che gli interessava sapere. Inizia Pellegrini. Pellegrini.